I telegiornali regionali in dialetto, è stato un tormentone dell'estate che alcuni emittanti hanno preso sul serio. A Carrara una tv locale in dialetto per ora ha deciso di fornire le previsioni del tempo. Sentiamo Gianni Mamoliti. Forse non si potrà rendere bene in dialetto espressioni come anticiclone delle azzorre o perturbazione atlantica. Ma annunciare che domani sarà nuvoloso, pioverà o farà molto caldo si può anche invernacolo. Per dimostrarlo una tv locale, Tele Toscana Nord, ha inaugurato un meteo tutto in Carrarino e prossimamente anche in Massese, Spezzino, Sarzanese e Lunigianese, tanto per non scontentare alcun campanile, naturalmente con i sottotitoli. Soltanto dopo il mese di aereo di nuvoloso i monti, che però non era importante manco un goccio d'acqua. In 50 anni la televisione era riuscita a diffondere l'uso dell'italiano, sia pure un italiano povero lessicalmente, in un paese dai mille dialetti. Ora si torna indietro? I responsabili di Tele Toscana Nord giurano di non avere preso spunto dalla proposta leghista di un TG regionale in dialetto, ma di volere solo difendere un patrimonio culturale di tutti. Meteo in dialetto a parte, noi preferiremmo una televisione dove si parli un buon italiano, con tutti i congiuntivi e le virgole al loro posto. A volte basterebbe scrivere in modo più chiaro e semplice, e al posto di precipitazioni, rovesci e nuvolosità cumuliforme, parlare di pioggia, acquazzoni e nuvoloni. Mamma mia è un po' poco, siamo andati a giù e a giù. Buona a tutti!